Si terrà il prossimo venerdì 29 marzo alle 17.30 nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Sebastiano Mottura di Caltanissetta un incontro di medicina con Michele Inguglia, psichiatra responsabile dell'Unità Operativa ASP di Palermo, e Maurizio Guarneri, docente di psichiatria nella Facoltà di Medicina di Palermo e membro ordinario della Società di Psicanalisi Italiana, che sono gli autori del libro Gruppi nel Cinema e Psicanalisi di Gruppo. apriranno l'incontro Laura Zurli, dirigente scolastico del Mottura, e Marisa Sedita Migliore, presidente del comitato Dante Elighieri di Caltanissetta. Inoltre interverranno Fabio Di Pietra, psichiatra e psicoterapeuta, dirigente responsabile del servizio psichiatrico di agnosi e cura dell'ospedale di Canicattì, e Anna Mosca Pilato, scrittrice.